Il sottosegretario al lavoro, Claudio Durigon, ha affermato che esiste la possibilità di apportare correzioni alle pensioni, senza ricorrere agli emendamenti tradizionali, ma attraverso un maxiemendamento mirato a sistemare varie problematiche presenti nel testo. Prima di continuare ricordati di iscriverti e attivare le notifiche per non perdere i nuovi contenuti e per sostenere il nostro lavoro. Il tuo contributo è prezioso, grazie di cuore. Nelle ultime ore, il governo Meloni ha mostrato segni di flessibilità riguardo alle contestate disposizioni pensionistiche per i medici, contenute nella manovra finanziaria del 2024. Le misure proposte dal governo, tra cui restrizioni più severe per il pensionamento anticipato, riduzioni degli adeguamenti e assegni più modesti per i dipendenti pubblici, hanno scatenato un'ondata di critiche da parte delle opposizioni e dei sindacati, in particolare tra i medici. Questi ultimi hanno minacciato scioperi se le norme non verranno modificate. Il problema principale risiede nel fatto che il governo aveva inizialmente presentato il testo della manovra come definitivo, con gli esponenti di spicco di Meloni, Salvini e Tajani che avevano pubblicamente esortato i loro parlamentari a evitare l'introduzione di emendamenti. Gli emendamenti proposti dalle opposizioni, molto probabilmente, sarebbero stati respinti. Il sottosegretario Claudio Durigon ha spiegato la strategia del governo in un'intervista a Radio 24, dichiarando, se c'è la necessità di apportare correzioni, adotteremo un maxi emendamento. Come sempre, se c'è qualcosa da cambiare, questa dichiarazione, seppur generica e applicabile a tutti gli aspetti della manovra, è chiaramente riferita alla situazione del personale sanitario. Durigon ha anche riconosciuto che la norma attuale incentiva i medici a ritirarsi anticipatamente, dato che a partire dal 2024 le pensioni potrebbero diminuire in modo significativo, fino al 25% in meno per chi si pensiona. Ciò potrebbe spingere chi ha già raggiunto i requisiti o vi si avvicina a ritirarsi prima della scadenza dell'anno, aggravando ulteriormente la carenza di personale medico in Italia. Per affrontare questo problema, il governo Meloni ha già previsto un leggero aumento dei salari per chi presta servizio straordinario nel settore sanitario. La reazione del Partito Democratico non si è fatta attendere, con il capogruppo al Senato, Francesco Boccia, che ha commentato le dichiarazioni di Durigon affermando che il governo intende correggere la manovra non attraverso il dibattito parlamentare e gli emendamenti, ma attraverso un possibile maxiemendamento governativo. Boccia ha sottolineato che la legge di bilancio presenta diversi aspetti che richiedono modifiche e il PD è pronto a proporre i propri emendamenti per migliorare il testo, accogliendo anche quelli dei parlamentari di maggioranza.